Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, siamo i Grand Venture e siamo anche oggi in una nuova puntata di trasferire degli anelli. Sì, senza Fenix che ormai è l'unico. Sì, ormai è l'unico. Ok, allora, avevamo l'intenzione di trasferirci, così dobbiamo prendere tutto. Allora, praticamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa baracca in cui abbiamo posato le tasse. Eh, no, però che facciamo? Non prendere tutto è inutile. Ok. Eh, che facciamo? Andiamo un po' in giro. Cioè, restiamo le tasse fuori, il giorno ci stai aspettando, dai. E allora. Dai, io sono più 76, tu a quanto stai? Più 35? Sono un po' più basso di te, molto più basso. Sì. Ma molto, molto. Ma molto, 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 molto. Che vuoi messi a creare? No. Mi dici che c'è gente cattiva. Avevo ragione. Ricordatevi, la spada che brilla ha sempre ragione. Quello lì era un... Ma qua dentro ci sono gli spawn? No, no. Dove sei? Qua, con la spada che brilla. Dove sei? Ah, te l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. Beh, ecco, sei visto, l'hai detto. La spada che brilla... Ah, comunque, che cosa mi ha droppato? Un crossbow bolt. Cosa? L'hai detto combattere. Sì, stavo mostrando. Praticamente sono delle particolari frecce che servono per... Come si chiama? Per la palestra. Che si fanno col ferro, sono molto sconvenenti. Qua sto vedendo che li stanno combattendo. L'hanno travotto, c'ero io fermo. Io, sì. Che l'hanno... Sto sentendo qualcosa proprio di scioccante. L'esercito c'è andato con me. C'ero anch'io nell'esercito. Sì. Puro esercito. Allora. Sì, la notte fuori sta diventando giorno. Perfetto. Non ci credo. Giusto. Non ci credo. Vabbè, torniamo a casa. Prendiamo tutto. Ammazzo la gallina. Vabbè, magari non prendiamo... No. No. Cretissimo. Hai vargo? Scusa. Hai vargo abbastanza rarico. Guarda, i nani! Sì, no, volevi... Che farò? Compriamo uno? Non possiamo. Non possiamo ancora. Dobbiamo essere almeno più cegliati. Prendiamo tutto? Cioè, tutto quello che serve? Eh, la crafting table degli alfi non l'abbiamo presa. Non l'abbiamo presa. Ecco. Cosa più importante. Eh, vabbè, allora, prendo un piccone dei nani. L'ho preso. Scusa. Il ferro... Dammi il ferro. Il ferro non ce l'ho. Ne abbiamo un po'. Come non ce l'hai? Non ho proprio. Ah, qua sopra, ok. Faccio una cosa importante. C'è il legno bianco. Un mallon, sì. Sto prendendo i letti un attimo. Così. 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 Purtroppo ancora non abbiamo trovato cose dei grandi alfi per mostrare. Principalmente sono come queste, solo che cambia la scalina. Un attimo che salgo, il blocco rotto di identificazione. Il blocco di identificazione là sotto. Ma non abbiamo trovato anche gli hobbits. Gli hobbits manco. Ma vabbè, ma anche neanche condor abbiamo trovato. Ancora molte cose ci sono. Vole bene. Se ne si rende, non riesce a questo. Boh, vabbè. Ormai ho fatto. No. Scusa. Non vedo quel target. Un attimo sto venendo, io ti vedo qua dall'alto. Sì. Dall'alto. E con mezzo cuore. Dall'alto, dall'alto. Un attimo mi sono portato comunque. Un idiota. Cioè, in teoria se io dovessi morire in questo esatto momento, mi dovrei respawnare tipo dai nani. Veramente, noi siamo ancora... abbiamo dormito dai nani. No, poi abbiamo dormito dagli elfi, io ho levato i letti, intelligente. Beh, siamo a scopo di scrocco. Sì. Sì. Non mi uccidere. Stai... Stai morendo di una volta. Di brutto. Un attimo. Però io devo andare a lavorare con questo letto. Ah, ok. Io sto morendo di fame. Solo un... un coso di portare. No. Vabbè dai, non lo faccio. Comunque si può fare. Faccio un'arma anche a te. Prendi. Prendi. La spada quella che brilla che ho fatto. Bella! Sì, sì, ora lo prendo. Non lo puoi fare nella Craft in Table dei Air. Ah sì, nelle altre Craft in Table non potete fare tutto ciò che potete fare con le Craft in Table normale. La spada che brilla. Però me l'ha data... eh, ragazzi, me l'ha data a punta. Sì. Sai cinese. Vabbè, era... è leggermente consumato. Forza della Cina a me? Sì. Vabbè... Se per favore mi dai quella buona. Cosa hai detto? Cosa hai detto? No, io non ho detto niente. Mi dai quella buona, spada. No, io questa ci ho sacrificato un sacco di risorse. Come se non erano mie. Io a scavare. Andiamo ad esplorare un po'. Questo qual è? Strong, ok. Questo me lo tengo per dopo. Ma perché non andiamo verso il... Gli Elfi? Eh, io sto andando verso dove brilla. Ma comunque stiamo circonnavigando qua gli Elfi. Cioè, in questo modo vediamo più biomi, dai. Ok, non brilla più. Ora brilla. A proposito, le missioni altre quali sono? Gli Elfi le abbiamo fatte. Cidre le abbiamo fatte. Bere l'abbiamo fatto. Non siamo arrivati a più 100. Non abbiamo ancora trovato il silver. Dovremmo scavarlo. E io non ho ucciso ancora i barri. Ci sei? Ci sono, prima. Vai. Circonnavichiamo un po' qua la zona. Hai preso tutto il cibo? Certo. No, tutto, tutto no. Tutto no? Vabbè, l'ho preso io. Bravo. Quasi tutto quanto significa? Tutto. Quasi tutto. Quasi tutto significa tutto. Ora, quasi tutto significa che almeno una costoletta per me l'hai presa? No, per me. Ah. Vedo il quasi tutto. E se no che il cooperativo è? Vabbè, sarà un po' naioso ragazzi, scusateci. Ma sarà appunto naioso. Siamo all'esplorazione. Però, questo è Minecraft alla fine. Ed è fatto anche di esplorazione. Sì, ho l'unico punto in cui c'era la terra, me lo sono beccato. Vabbè. Prima o poi ragazzi dovrà succedere. Sì. Due volte. Sì. No, due. Perché uno non mi fa stare. Devo attraversare un po' gli essi. Tu dove sei? Qua sotto che provo a salire. Ma sei sotto di me? Sì. Ok, ti vedo. Fermati. Vieni da me e seguimi. Sì. Seguimi. Come se io lo sapessi. Basta stai mandando a caso, ok. Sì, come è tu? Lì c'è un accampamento. Sì. Andiamo un più o meno da questa parte. Da dove? Ah qua. Stiamo un po' circolnavicando la zona. Vediamo che trovi. Aspetta. Cioè, sei andato da parte opposta. Ecco, come ci perdiamo, ragazzi. Forse se ti stai fermo non ci perdiamo. Ok, mi sto fermo, svegli. Ah, vuoi un po' biondo. Più 77, è giusto. Giusto. Allora, una casa dei grandi elfi la potremmo anche trovare, no? Sì. Questa è che il colpo di sfortuna che abbiamo. Qua neanche fossero piccoli i biomi. Bensì anche sono grandi, quindi... Allora, i biomi li abbiamo trovati, io e lei li abbiamo trovati, Marco li abbiamo trovati. Quello che bioma è dove troviamo i ranger? Mi pare di sì. Sì, sì. Comunque i alberi è dove troviamo i ranger. L'unico pezzo che c'era l'ho preso io, ovviamente. Vabbè, siccome dei ranger non ci sono costruzioni granché inutile, poi... Io sto andando da i ranger. No. Ma i do' vanni. E allora aspetta. No. No, hanno ripreso. Io, tipo, ho detto no, non stanno dicendo più nulla. I do' vanni. Un attimo, vieni, vieni, forse ho trovato i hobbit. Hai trovato i hobbit? Sì. Lo riconosco dal verde. O sono i hobbit o i gondor, perché questo verde così ce l'hanno loro. Ma mi sembra i hobbit li ho visti. Dai, andiamo, andiamo. Ragazzi, i hobbit li abbiamo trovati. Spottolatamente. Allora. Sono ancora più passi dei nani. Sicuro? Sì. Allora, secondo me... Ora, ora, scusa. Allora, ci mettiamo la scommessa per davvero. Mettigli un blocco accanto e vediamo... Ma sembrano uguali, già l'ho fatto. Ma sembrano uguali un po' più alti di un blocco, sinceramente, scusami. Ma sono un blocco. No, un po' più alti di un blocco, come i nani. Tipo, poi così, guarda. Un hobbit, un hobbit. Dov'è? Sì, un attimo, sto visorando. No, sono un po' più alti di un blocco. Guarda come si è ubriaca! Dov'è? 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 Si è appena ubriacato. Sì, io o questo di qua? No, no, non lui. Lei, guarda, guarda. Anch'io. No, 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 no. Non ci vedo più nulla. Basta ubriacarsi durante i video. Queste di qua sono le case degli hobbit. Da dove si apre? Io non riesco a entrare. Qui troverete queste. Che cosa si fa? Lo sapete? Qua potete trovare queste ceste delle librerie. E anche avevo trovato un altro. Qua ci sono i letti. Li ho portati inutilmente. Ciao. Perché stai parlando così? Sì. No. Ok, qua c'è una loro fornace. Ora vi faccio vedere a cosa serve. Basta! Oh, è l'effetto dell'ubbriac... dell'ubbriatezza. Chezza? Sì, sì. O il cane che sta abbaiando? Il caccio io non lo sento mai tutto. Va bene, sarà... Sarebbe perché io gioco tipo con le cuffie a 3.000. Dai, poi... Mostriamo che cosa fa. Come vedete è... Più o meno la... Cioè ha la stessa funzionalità di quella... Dei nani, solo che questa cuoce il cibo invece. Ok, allora... Smetti, smetti, smetti. Ok, smetti finalmente, ragazzi. Cuocila. Perché non lo cuoce? Sì. Oh, finalmente siamo tranquilli dagli hobbit. E questo è il nuovo bioma. Funziona. Ragazzi, hobbit, hobbit, simpatico. 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 Vieni qua. Non vuole una faccia simpatica, sincero? Cioè, scusate, no? Io sono qua a cuocere il cibo. Non di... Un attimo. Cioè, ragazzi, gemelli? Gemelli? Un attimo, tu vieni... No, questo di qua me lo porto a casa. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. No, io lo stai spaventando. Gli sembri troppo alto. Ma... Ah, siete... Ah, siete simili, vedo. Ah, ma lui ha l'anello. Mangia. Questo mischino non ha neanche... Dove vai? Non lo manco a campare. Scusa. Non ce la fanno. No, ce l'hanno fatta. Incredibile. Io pensavo non ce la facessero. Noi, anche. Cioè... Ok, dai. Cosa che sono un blocco... Poco più, come buffi. Dai, vada, dormiamo. Qua ci sono due letti. Peggio dei buffi. Fortunatamente mettono in giro sempre due letti. Dai nani, due letti. Dagli Elfi un letto perché non gli piaceva. Dagli Hobbit due letti. Dai, vieni a... Dove sei? A sinistra. La stanza a sinistra. A sinistra? Qua! Sì, è Hobbit. Aspetta, vediamo. Aspetta, scusa. Scusa. Aspetta, vediamo la bottiglia. No! Eh, buonanotte. Dai, Grand Venture. Dai Grand Venture. A una prossima granda... Grazie. 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 Grazie.